Ciao a tutte, anche questo video in collaborazione con la Marco Bindi Live Band, io sono come sempre Berta Filava a chi fa piacere si può iscrivere al mio canale per rimanere aggiornati invece chi vuole venirmi a cercare su Facebook per alcune domande può farlo, trova il link nella descrizione faremo un video riguardante il diamond painting, un video di introduzione partendo dal presupposto che è molto simile al punto a croce allora nei kit già predisposti arriva questa tela adesiva che voi aprirete vedete, e qui sotto praticamente c'è la porta adesiva, quindi è una tela adesiva, mettiamola così eccolo qui, poi sempre nei kit già predisposti c'è una tabella colori questo richiama molto il punto a croce, vi fa capire che è proprio lo stesso meccanismo vedete, ok, poi ci sono praticamente le varie perline che vi serviranno per fare lo schema che ripeto, lo schema è esattamente uguale a quello del punto a croce, hai i suoi disegnini e il numero corrispondente poi arriva, e questo equivale per tutti gli schemi, quindi ogni schema che voi acquistate vi arriva a questo kit con il materiale, allora c'è praticamente il penino bucherellato avete la vostra pinzetta la colla e il contenitore e le bustine se dovete riporre l'avanzo ora vi ho fatto vedere il materiale di un diamond painting già ancora nuovo ok, mettiamo da parte, vi faccio vedere quello già cominciato che poi sarà oggetto del prossimo di tutorial ok, allora qui ho già cominciato esattamente come il punto a croce a uno schema quadrettato prendo il foglio appunto dello schema colore e sul, ora non riesco a farvelo vedere perché è scuro però c'è il 3768 che corrisponde alla N anche sullo schema è fatto così prendo la bussina 3768 ok, con le perline 3768 che ho precedentemente rovesciato nel mio contenitore prendo il pennino e in questo caso la dovrei mettere su quella collina rosa ma siccome la trovo poco pratica io uso una colla stick mi ci trovo benissimo perché mentre quella lì è piccolina lì sia che sta sua questa è finita da usarla uno la richiude, due ce lo ferma lì vedete, inserisco in modo di far entrare la colla all'interno del nostro becchietto perché se non entra all'interno ovviamente la perlina non la prende come appunto il nostro punto a croce andiamo a cercare nel nostro schema dove sta la N e questo colore e lo inseriamo purtroppo lo schema che sto facendo in questo momento è scuro quindi anche se ve l'avvicino voi non vedreste comunque la lettera corrispondente eccomi qui la sto mettendo e ripeto il meccanismo è lo stesso del punto a croce l'unica variante è che ci sono le perline per il resto avete questa tela rigida sotto in realtà è lo stesso schema lo stesso concetto lo stesso identico concetto non c'è niente di diverso hai un punto a croce tra virgolette con le perline sopra penso che sia un biadesivo molto potente quindi c'è lo schema del punto a croce passato sopra questa tela poi c'è del biadesivo e è dove noi andiamo a taccare praticamente le nostre perline spero di essere stata chiara alla fine è proprio una stupiraggine questo Diamond Pandy io su Berta Filavra avrò gli schemi a disposizione da gennaio perché voglio farvi vedere un progetto con questi schemi e saranno proprio saranno schemi Diamond Painting solo adatti a questo tipo di lavorazione praticamente vedete questo per un pezzo ho già cominciato vedete quanto è bello è bellissimo veramente veramente molto bello l'effetto è molto scenografico ok grazie a tutti alla prossima mi raccomando iscrivetevi al mio canale lasciate tanti like venitemi a cercare su Facebook un bacio a tutti grazie alla prossima grazie a tutti